Red Queen Red Queen Red Queen L'eroe è il pezziore che ti lo fa passi Però il destino disse no Ma il cuore è più potente di una macchina E la paura non lo fermerà Ehi, traccaia, sei forte come un bonite Divora la tua vista e vincerai Sei vento veloce, sei l'acqua di luci che fulmina Ehi, traccaia, sei supercambionissimo La rabbia del motore esploderà La colpa, la strada, la bolla che si rispira se vincolo Ma l'inferno aspetterà Red Queen Red Queen Ehi, traccaia, regalo l'acqua timido Sei la guida che in alto volerà Sei vento veloce, sei l'acqua di luci che fulmina Ehi, traccaia, sei supercambionissimo La rabbia del motore esploderà La colpa, la strada, la bolla che si rispira Ehi, traccaia, sei supercambionissimo La rabbia del motore esploderà Ehi, traccaia, sei supercambionissimo Ehi, traccaia, sei supercambio Scusate, dicevamo Italians do it better parte seconda, dopo il tracciato in Mugello si rientra in Italia per il tredicesimo appuntamento del mondiale 2014 classe MotoGP. Siamo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini. Andiamo subito a ricapitolare la grilla di partenza e le classifiche. A cominciare la grilla di partenza, in prima fila abbiamo Orge Lorenzo, poi seguito da Andrea Iannone e Valentino Rossi. In seconda fila Mark Marquez a sorpresa, insieme a Dani Pedrosa e all'altra Ducati di Andrea Dovizioso. Poi in terza fila abbiamo i fratelli Espargarò con Paul davanti ad Aleish, che è un casco speciale anche lui come Valentino Rossi. Però Aleish ce l'ha dedicato a Simone Corsi, che si è fatto male a Silverstone. Poi segue Bradley Smith con l'altra Yamaha. Poi in quarta fila abbiamo Stefan Bradel, Joni Hernandez e Alvaro Bautista. In quinta fila c'è Carl Craccio con Scott Redding e Rocha Oyama. Poi seguono Leon Kamier, Karel Abram e Michael Laverty. Seguono ancora Alex De Angelis, Brock Parks e Hector Barbera. A chiudere Mike Di Meglio e Danilo Petrucci, che non ha segnato tempo nella qualifica di ieri. Ricapitolando la classifica abbiamo Mark Marquez, primo con 288 punti, seguito da Dani Pedrosa con 199 e Valentino Rossi con 189 punti. Al quarto posto c'è Orge Lorenzo con 157 punti. Per quanto riguarda i costruttori abbiamo la Honda con 300 punti, la Yamaha con 214, la Ducati con 136 e al quarto posto la Forward Yamaha a 95. Per quanto riguarda i team abbiamo il Repsolon da Team a 487 punti, il Movistar Yamaha a 346, il Ducati Team a 169 punti e il Monster Yamaha Tech 3 a 153. Amici di Radio Live F1, benvenuti per questa diretta del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini. Siamo pronti con subito il giro di riconiezione in questo circuito che nel 2007 ha visto un cambio del senso di marcia ed ecco subito entriamo nella variante del parco. Quella che un tempo era l'ultima variante prima di buttarsi sul traguardo, questa diventa la prima curva. Poi c'è la serie di curve che porta alla curva del rio per andare poi all'allungo che porta alla curva del tramonto. Qui infatti vediamo i piloti impegnati nel rettilineo che porta alla curva del rio verso poi la doppia curva del tramonto. che immette poi sul velocissimo curvone da 280 km orari. Ecco, il quadrato Andrea Dovizioso che sta eseguendo il curvone, eccolo qua, subito il curvone. È l'ultimo tratto di questo circuito, il curvone. Poi abbiamo la curva del carro che mette poi verso le ultime due curve finali prima di rituffarci subito sul rettilineo del traguardo. Infatti eccolo qua, subito Orge Lorenzo inquadrato sul, che va a prendersi la sua piazzola dalla pole position. Gli occhi dalla tigre di Orge Lorenzo, pronto. Vede davanti a sé la prima curva. Mark Marquez va a piazzarsi anche lui. In quarta posizione dietro Valentino Rossi. Ancolo qua inquadrato il giovane, il giovane spagnolo. Tutto è pronto. Orge Lorenzo, Andrea Iannone e Valentino Rossi, anche lui il casco speciale, come sempre, dopo il Mugello anche lui ha il casco speciale. Le moto sono quasi tutte schierate, bandiera verde in fondo allo schieramento. Adesso si accenderanno i semafori, sta per partire il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini. Classe MotoGP 2014, via, partito benissimo. Orge Lorenzo, con Andrea Iannone che tiene bene la posizione. Anche Valentino Rossi subito all'attacco di Iannone per non far scappare Orge Lorenzo. Mark Marquez prova l'attacco. Qualche pilota va un po' lungo. Subito Mark Marquez si è infilato davanti ad Andrea Iannone che prova il controattacco a Mark Marquez. Ma è subito il duo Yamaha davanti a tutti. Poi Mark Marquez, Andrea Iannone, Andrea Dovizioso, scatto abbastanza infelice per Dani Pedrosa che è rimasto intruppato dietro anche alla Yamaha di Paul Spargerò. Mark Marquez subito, vuole subito andare ad attaccare Valentino Rossi. con la curva subito del tramonto. Siamo al primo giro, la curva del tramonto. Con Orge Lorenzo davanti a Valentino Rossi, attaccato quasi da Mark Marquez. Poi c'è Andrea Iannone, seguito da Andrea Dovizioso e Paul Spargerò. Brutta partenza per Dani Pedrosa che è scivolato indietro addirittura alla moto di Paul Spargerò. Ultime curve di questo primo giro, movimentatissimo. Con Orge Lorenzo che ha un piccolissimo margine su Valentino. Però Valentino tiene dietro bene Mark Marquez. Così Orge Lorenzo può leggermente scappare via. C'è un piccolo margine, subito sul traguardo, c'è un piccolo margine tra i tre di testa e le due ducati di Iannone e Dovizioso. Con Marquez che prova all'interno su Valentino. Valentino è comunque attaccato a Orge Lorenzo. I tre sono insieme, sono una cosa sola. Subito nelle prime curve di questa prima parte del secondo giro. Partito subito forte Valentino Rossi che ha subito avuto modo di scavalcare Andrea Iannone. Eccolo qua, incollato, vediamolo. Incollato a Orge Lorenzo con Mark Marquez dietro pericoloso. Siamo alla curva che precede la curva del tramonto, scusate. Traiettorie diverse con Orge Lorenzo che ha un pochino di margine. Frenata, però, Marquez, incredibile il sorpasso di Marquez all'interno su Valentino Rossi. Traiettorie diverse dei due piloti con Marquez che subito attacca Valentino Rossi. Valentino Rossi ci riprova verso il curvone, appaiati i due sul curvone. Risposta di Valentino Rossi al curvone che tiene dietro Marquez e si rincolla Orge Lorenzo. Siamo alle ultime curve di questo secondo giro e già c'è Bagard davanti. Con Marquez che non ci sta a star dietro al Duyama. Ecco qua Orge Lorenzo che inquadra Valentino Rossi. Ci riprova Marquez in croce di traiettoria alla penultima curva. Si arriva alla cura Misano, l'ultima che mette sul traguardo. Per questo terzo, inizia il terzo giro adesso. Orge Lorenzo davanti a tutti, ancora Valentino Rossi, poi Mark Marquez. C'è stato uno scambio di posizioni tra i due nel giro prima. Marquez ancora traiettoria diversa alla variante del parco. Con Valentino Rossi anche lui, qualche traiettoria diversa per tenere dietro Marquez. Il giro veloce proprio di Mark Marquez, subito 1.34.3. Uh, ancora ci riprova Marquez dentro su Valentino Rossi. E adesso passa, prova Valentino Rossi riproverà ancora a ribattere il sorpasso di Mark Marquez. Eccolo qua, si incolla subito al giovane spagnolo. Lo rinfila, grande staccate di Rossi alla curva che precede il tramonto. C'è uno scambio quasi traiettoria tra Marquez e Rossi. Lorenzo sta andando via leggermente, grazie a questa scaramuccia tra Rossi e Marquez. Eccolo qua, la curva del tramonto. Siamo all'ingresso del curvone. Lorenzo via subito. Vuole cercare di scappare via a Martiglio. Rossi dietro, Marquez. Con Marquez attaccato alle calcane di Valentino Rossi. Cioè, si è liberato leggermente Rossi di Marquez. Iannone, inquadrato Iannone da Dovizioso. Sono lì attaccati. Con Pedrosa che si è liberato dalla moto di Polo e Spargarò. E adesso si è attaccato alle due Ducati Open con concessione Factory. Scusate, Factory con concessione Open di Andrea Iannone e Andrea Dovizioso. Ma c'è ancora un piccolo margine tra questi due gruppetti. Intanto il giro veloce è di Jorge Lorenzo. Che è sempre il primo davanti a Valentino Rossi. Infatti, eccolo qua, Jorge Lorenzo. 1'34, 289 per il Maiorchino. Seguito a ruota dalla Yamaha gemella di Valentino Rossi. Che ha lasciato un piccolo buco tra sé e Mark Marquez. Rossi vuole provare a tutti i costi. Eccolo qua, prova l'attacco all'interno su Jorge Lorenzo. Alla curva che precede il tramonto. Eccolo qua, l'attacco interno. Scambio i traiettori e va largo Valentino. Va largo alla curva del tramonto. Ci riprova sicuramente. Eccolo, ricambio di traiettoria. Valentino Rossi alla curva del tramonto. Davanti a Jorge Lorenzo. Ancora largo. Si scambia ancora la posizione. Il curvone. Eccoli qua. I due alfieri della Yamaha. Con Valentino Rossi davanti a Jorge Lorenzo. Ce l'ha fatta adesso. Nell'incrocio di traiettoria. Marquez si diverte a vedere i due della Yamaha lottare tra di loro. E si è riavvicinato grazie a questa piccola battaglia. Rossi è davanti adesso. Il box di Valentino Rossi che freme. Con Jorge Lorenzo attaccato da Mark Marquez. Però va largo. Ci riprova alla penultima. Quasi il contatto tra Mark Marquez e Jorge Lorenzo. Valentino Rossi è davanti. Marquez è secondo. Con Jorge Lorenzo terzo. Via sul traguardo per il quarto giro. Giro velocissimi. Velocissimo di Rossi. Replica di Mark Marquez. 1.34.1 per Marquez. Contro l'1.34.2 di Valentino Rossi. Marquez ora si è incollato a Valentino. Valentino adesso cercherà la fuga. Ha fatto dei turni di prove bellissimi. Peccato per il turno di Libre perso per Lacoma. Ma dalle qualifiche anche sia l'FP4 che il warm up di stamattina. Sono stati turni velocissimi per Valentino. Marquez inquadra Valentino Rossi. Prova l'attacco alla curva che precede il tramonto. Si avvicina tantissimo in staccata. Arriva alla curva del tramonto. Ancora con Rossi davanti. Curva del tramonto. Rossi davanti ancora a Marquez. Si entra nel curvone. Ecco il casco speciale di Valentino Rossi. Anche lui in questa occasione. Bermisano che ha la sua gara di casa. Ha prontato un altro casco speciale. Grazie al tandem con Aldo Drudi. Leggero largo di Marquez alla curva del carro. Però Marquez è comunque lì attaccato a Valentino Rossi. E c'è comunque Orge Lorenzo sempre lì dietro. Che guarda da spettatore interessato. Quello che succederà tra i due. Quinto giro. Quinto giro di carro che sta iniziando adesso. Valentino Rossi davanti. Marquez ancora dietro. Ha girato leggermente adesso ancora più veloce Rossi di Marquez. Di pochissimo. Di un decimo. Ancora 34 e 1 di Valentino Rossi. Gran passo in questo inizio di gara per il pesarese. Che tiene ancora dietro Marquez. E poi c'è Lorenzo. C'è Lorenzo leggermente staccato rispetto a Mark Marquez. Ma è comunque nel gruppetto di testa a lottare per la vittoria. Marquez in staccata. Si avvicina tantissimo a Rossi. Invece Lorenzo non riesce per il momento a star dietro a Marquez. Intanto vediamo Pedrosa che ha saltato Andrea Dovizioso. E si è incollato ad Andrea Iannone. Marquez si è attaccato a Rossi alla curva del tramonto. No scusate questo è ancora Pedrosa davanti dietro a Iannone. Eccoli qua ancora Rossi e Marquez. Con Rossi che alla curva del curvone guadagna leggermente. Ma poi Marquez gli si fa sotto in staccata alle ultime curve di questo quinto giro di gara. Eccolo qua che si avvicina tantissimo in staccata Marquez a Valentino Rossi. Penultima curva. Poi si entra nella Misano e quindi si butta sul rettilineo. Ci sono tre decimi di vantaggio di Rossi su Marquez. E c'è circa mezzo secondo di Marquez su Orghe Lorenzo. E siamo comunque lì. Sono comunque lì vicini. Sarà una grandissima battaglia a tre per raggiudicarsi la vittoria di questa gara. Dietro ancora le scintille tra Andrea Iannone. Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso. Con Paul Espargarò che è seguito a ruota da Stefan Bradel. Sarà un gruppetto a cinque questo per lottare per il quarto posto. Quasi sicuramente. Si avvicineranno sicuro Paul Espargarò e Stefan Bradel. Intanto davanti ancora Marquez che insegue da vicino a molto vicino Rossi. In staccata di si avvicina tantissimo alla curva che precede quella del tramonto. Prova l'incrocio di traiettoria adesso. Ci riprovano. Eccolo qua. Prova all'interno Marquez. Valentino Rossi. Non chiude la porta bene Valentino. Siamo sul curvone. che scappa via leggermente la Yamaha rispetto alla Honda sul curvone. Ma poi la Honda si riavvicina in staccata a Valentino. Eccolo qua. Infatti Marquez si avvicina leggermente a Rossi in staccata. Traiettoria completamente diversa. Spazzolata di Marquez al carro per avvicinarsi a Valentino Rossi. Eccolo qua. Si è avvicinato Marquez. Si è attaccatissimo a Rossi. Ci prova. Siamo alla curva Misano che è quella che mette sul traguardo. Stili diversi di guida tra Marquez e Valentino Rossi. Con Valentino Rossi che è ancora davanti a Marquez. Leggera impennata delle due moto. Guardano al cielo tutte e due. Staccata con fuori piede tutte e due. Che si mettono nella variante del parco. Tanto vediamo ancora nella battaglia per il quarto posto. Tra Andrea Iannone, Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso. Con Dani Pedrosa che non ci sta. Adesso proverà sicuramente l'attacco di Andrea Iannone. Eccolo qua. Leggera sportellata tra i due. Si infila anche Andrea Dovizioso. Dovizioso adesso è quinto con Iannone che è scivolato in sesta posizione. Iannone però non ci sta. Siamo ritornati comunque sulla coppia di testa formata da Valentino Rossi e Mark Marquez. Ancora Marquez che inquadra Valentino Rossi. Proverà l'attacco ancora al tramonto. Eccolo qua. Prova. Traiettoria diversa ancora per Marquez. No. Non è il momento di attaccare adesso. Rossi chiude bene la porta. Si arriva al curvone. Eccolo qua. Rossi scappa via leggermente a Marquez. Ma Marquez comunque come dicevamo gli si rifà sotto in staccata. Stili diversi di guida dei due piloti. Su un curvone velocissimo da 280 km orari. Leggermente largo Marquez quasi all'ingresso del carro. Intanto qua c'è una caduta. È proprio Stefan Bradel. È proprio Stefan Bradel ancora che è caduto. Un'altra caduta per Bradel in questo weekend. Siamo alla... Eccoci qua. L'ultima curva che precede il traguardo con Valentino Rossi. Ancora davanti a Mark Marquez. Altro giro completato da Rossi e Marquez con Lorenzo. Che apparentemente ha più difficoltà a tenere la ruota dei primi due. Ancora un altro giro veloce di Valentino. 1.34.5 contro il 34.7 di Mark Marquez. Siamo comunque ancora nel primo pezzo del tracciato. Nella parte che poi mette verso la curva che poi porterà al tramonto. Questo è l'allungo che porta alla curva 9. Ora che poi mette la curva del tramonto ancora. Fuori il piede sia Rossi che Marquez. Con Rossi ancora davanti a Marquez. Marquez è attendista in questo momento. Proverà comunque... Tenterà la... Eccolo qua. Prova ancora. Una staccata diversa. Un'entrata diversa di Marquez su Rossi. Prova l'attacco. Curvone. Con Lorenzo che perde terreno. E ha un secondo e 4. Addirittura da Mark Marquez. Si è preso un bel secondo e 4. In questi primi 5 giri. Org e Lorenzo. Da Mark Marquez. Stili diversi a confronto. Tra Valentino Rossi e Mark Marquez. Con Valentino che adesso sembra aver guadagnato. Leggermente su Mark Marquez. All'inizio del settimo giro. Con il quadrato il box di Mark Marquez. Con il fratello Alex. Che fa il tifo ovviamente per Mark. Lorenzo ancora. E' dietro. Ancora un secondo. Sempre un secondo e 4. Il distacco tra Mark Marquez e Lorenzo. Con Mark Marquez. Che ha un due decimi di svantaggio. Su Valentino Rossi. Che Valentino Rossi ha girato ancora. 1.34.4 Con il 34.5 di Org e Lorenzo. Nel reflex cosa ci mostrano. Uno slomo di Valentino Rossi. Che davanti. Oh. Incredibile. Marquez. Clamoroso Marquez. Deve essere scivolato. Deve essere scivolato. Mark Marquez. Clamoroso. Quello che è successo in questo giro. Un errore quasi. Di Mark Marquez. Non l'abbiamo ancora capito. Nel successo. Staccata sbagliata. Ha scivolato. Si. Scivolata di anteriore di Marquez. Ha provato una delle sue foglie. Staccate Marquez. Gli è partita però l'anteriore. Ed è scivolato. Adesso. Sarà dura. Per il pilota. Per il pilota. Che è in testa al mondiale. A recuperare. Infatti. Viene spinto dal commissario. Non riesce. Non riesce proprio a ripartire. Ci prova in tutti i modi. A far. A far ripartire la sua onda. Ma non. Sembra che non. Neanche a. Neanche a continuare a. A spingere sulla sella. Riesca a farla ripartire. Almeno per. Per rientrare ai box. Così. Così a campo libero. Marquez. Marquez al momento è out. E quindi campo libero. Per Valentino Rossi. Davanti a Orghe Lorenzo. Ecco. È ripartito Marquez. Però. Però in fondo. Bisogna vedere. Se. Riuscirà. Andare avanti. O comunque. Orienterà ai box. Se sfrutterà. Diciamo. Se sfrutterà questi giri. Per vedere come è messa la sua moto. Comunque. Orienterà ai box. Per. Per. Per ritirarsi. Intanto. Comunque. Davanti. Valentino Rossi. È solitario. Davanti a Orghe Lorenzo. Con. Con Pedrosa. Che adesso è salito al terzo posto. Grazie all. All'errore di Mark Marquez. Valentino Rossi. Ha addirittura due secondi. E otto di vantaggio. Su Orghe Lorenzo. Orghe Lorenzo sembra non tenere il passo del suo compagno di squadra. A 18 giri dalla conclusione. Primo colpo di scena. Di questa. Di questa gara. Di questa gara di Misano. Su un circuito dove le Yamaha. Hanno sempre dimostrato grande forza. Lo dimostrano infatti. I due successi di Valentino Rossi. Nel 2008 e 2009. E i tre consecutivi di Orghe Lorenzo. Dal 2011. Fino all'anno scorso. Marquez. È inquadrato adesso. È ripartito. Ma è ultimo. Con. È addirittura ventesimo Marquez. Proverà comunque. Il tutto per tutto. Per raccindere qualche punto. Nonostante questa. Questa caduta. Nel. Nel. Nono giro di gara. Valentino Rossi. Eccolo qua. Che passa adesso sul traguardo. Non ha bisogno comunque di. Di spingere più di tanto. Sapendo che. Che Marquez. È out. Comunque in fondo. Al. Allo schieramento. E ha. E sapendo che ha due. Oltre a due secondi di vantaggio. Sul. Sul suo compagno. Orghe Lorenzo. Può correre in. In assoluta scioltezza. Valentino Rossi. Vediamo infatti. Ci. Ci mostra ancora. Un replay. Dal. Dall'onboard di Rossi. La staccata furibonda. Di Marquez. Che. Mette la moto sul cordolo. E scivola. E scivola via di anteriore. Quello qua. Valentino Rossi. Sull'allungo. Che poi porta. Alla. Alla curva del tramonto. Staccata. Non più. Non più tanto furibonda. Di. Di. Di Rossi. Un piccolo. Una piccola sbavotone. Staccata. Invece. Per Orghe Lorenzo. Pedrosa. Adesso è terzo. Condovizioso. Dietro quarto. Poi. Andrei. Alnone. E poi. E poi. Spargarò. Che non ha più. La pressione. Di Stefan Bradel. Quindi. Siamo a due ritiri. In questi. In questi. In questi primi giri. Ne mancano ancora 17. E. Comunque. Tutto. Forse. Può ancora succedere. Per. Anche per. Anche per il podio. Con. Con Pedrosa. Che. Che. Ha le prese con Dovizioso. Dovizioso. Vorrà regalare comunque. Un podio. Alla. Alla Ducati. Nella. Nella gara. Comunque. Di casa. Per. Sia. Sia. Sua. Che anche. Della. Ducati. Intanto. La guida sciolta. Di Valentino Rossi. Che ha due secondi e sei. Di vantaggio. Sua. Lorenzo. Non. Lo sta insidiando. Visto che comunque. È a due secondi e sei di ritardo. Tanto è inquadrato ancora Marquez. Che prova. Che prova in tutti i modi. A cercare di recuperare posizioni. Per assimilare almeno qualche punto. Qualche punto. Però non è non è facile dopo la scivolata. Ha perso molto tempo Marquez. Ma vediamo che comunque. La moto non sembra aver. Aver riportato danni. Dalla. Dalla scivolata. Chiaro che si muove un pochino. Però non. Non ha riportato evidenti danni. Nella carinatura. Né comunque. Le. Le. Le pedane. Intanto davanti. È ancora Valentino Rossi da solo. Eh. Seguito a. Comunque a due secondi. A oltre due secondi. Da Orghe Lorenzo. E. Le due Yamaha sono in totale controllo. Di questa gara. Prima e seconda. Cosa possono. Cosa può volere di meglio. Il. Il. Il team principal. In Jarvis. Che vede i suoi due piloti. Davanti. Davanti a tutti. Con Mark Marquez. Adesso è. È diciannovesimo. Però è molto. No. Scusate. Ancora. Sì. Ancora ventesimo. Però molto attardato. Rispetto. A Petrucci. Altro giro. Che sta per iniziare. Valentino Rossi. Ancora all'ultima curva. Adesso si mette sul traguardo. Vediamo. Ripley. Ci mostrano in Ripley. La partenza ancora. Bellissima. Di Valentino Rossi. Sia la partenza bellissima. Di Orghe Lorenzo. Che tiene la sua posizione. Che quella di. Di Valentino Rossi. Che va. A scavalcare. Andrea Iannone. E poi. La stessa mostra. La fa anche. Mark Marquez. Dalla quarta posizione. Salta via. Andrea Iannone. E. E si metta nel segmento. Delle due Yamaha. Questo è l'onboard. E l'onboard. Dalla. Dalla telecamera posteriore. Di Valentino Rossi. Inizialmente è stato Pedrosa. D'avere un scatto migliore. Rispetto a Marquez. Ma Marquez. Poi. Con una staccata. Bestiale. È riuscito a. A. Saltare. Sia Pedrosa. Che poi. Che poi. Andrea Iannone. Nella curva. Nella variante del parco. Tanto. Slow motion. A volontà. Per questa. Per questo inizio di gara. Di. 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 Adriatico. Vediamo infatti. Dovizioso. Iannone. Eccolo qua. Valentino Rossi di nuovo. Inquadrato. Al. Al. Curvone. Sta gestendo. Egregiamente. Il vantaggio. Che ha accumulato. Su. Argue Lorenzo. Che è addirittura. Di due. Che è di due secondi e due. Lorenzo. Gli ha recuperato. Qualcosina. Ma comunque. Sono. Le due Yamaha. Le due Yamaha ufficiali. Sono in totale controllo. Della. Della situazione. E ancora due secondi e due. Il vantaggio. Di. Valentino Rossi. Al. Al. Terzo settore. Eccolo qua. Che si butta. Sul. Si butta. Nel T4. Le ultime due curve. Poi si metterà sul traguardo. E mancheranno 14 giri. Al conclusione. Leggera sbavata. Sul. Sull'anteriore. Per. Per. Per Valentino Rossi. All'ingresso. Sul rettilineo. Del traguardo. Sempre due secondi e due. Passaggio. Di Valentino Rossi. Argel Lorenzo. Dietro. Ancora. Non sarà finita. Nel. Per la lotta. Del podio. Tra. Tra Dani Pedrose. E Anderdo Vizioso. Inquadrato. Andrei Annone. Poi Bradley Smith. Ancora. Inquadrato. Anche Alvaro Bautista. Bella spazionata di Bautista. In ingresso della variata del parco. Davanti al Craccelo. Craccelo che ricordiamo. L'anno prossimo. Lascerà dal Ducati. Per. Andare ad accasarsi. Al team LCR. Di Lucio Cercinello. Con la moto. Lasciata libera. Stefan Brando. Che è andato. Al team forward. NGM. Con la Yamaha forward. Il quadrato. Alessio Spargaro. Che segue. Ioni Hernandez. Anche Alessio Spargaro. Ha un casco. Ha un casco. Speciale. Per questa gara. Infatti il suo casco. È dedicato. Al pilota. Compagno di team. In. In moto 2. Simone Corsi. Che si è fatto male. A Silverstone. In un contatto. Con. Con Folger. E ne avrà per. Per qualche mese. Per il polso. Ancora. Guardate Bautista. Come spazzola. Nel duello. Con Craccelo. È ancora bellissimo. Da vedere. Tutte le spazzolate. Di Alvaro Bautista. Intanto davanti. È ancora. Rossi. Che ha sempre. Due secondi e due. Di vantaggio. Su Orghe Lorenzo. Che li recupera. Millesimi. Nei. Nei. Nei settori. In questi settori. In questi primi. Tre settori. Li recupera proprio. I centesimi. A millesimi. Addirittura. Eccolo qua. Rossi. Sul traguardo. Mancano. Mancano. 13 giri. Curva. Curva iniziale. Di questo. Di questo giro. Mancano. 13 giri. Mancano. 13 giri. Alla fine. Ecco. Replay. Leggera. La leggera sbavatura. Di Rossi. Sul traguardo. Prima di mettersi. Sul traguardo. Curva che precede. La curva del tramonto. E ancora. Sono sempre le due Yamaha. In controllo della gara. Non è finita. Pedrosa spazzolata. Di Pedrosa. In staccata. Per tenersi dietro Dovizioso. Dovizioso. Non mollerà sicuramente. Pedrosa per il podio. Non è finita tra le due. Diversa la traiettoria. Per la curva del tramonto. Infatti. Traiettoria più interna. Per Dovizioso. Per cercare di sfruttare meglio il gas. Va invece più largo. Va invece più largo. Pedrosa. Per avere una migliore uscita. Dalla. 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 Curva del tramonto. Per rimettersi sul curvone. Curvone. 280. Allora. Pedrosa. Ancora davanti a Dovizioso. Dovizioso. Ultime staccate. Chiuso questo genere. Mancheranno 12. Alla fine della gara. Dovizioso. Ancora. Attaccato. Pedrosa. Eccolo qua. Ancora. Valentino Rossi. Davanti a tutti. Servito poi. Da Orghe Lorenzo. Sono sempre due. Due secondi a tre. Di vantaggio di Valentino Rossi. Sì Orghe Lorenzo. Dietro ancora. Pedrosa. Poi. Poi André Dovizioso. Poi c'è André Iannone. E poi. Poi Spargarò. Non è finita ancora. Qua per il podio. Iannone. Iannone. Sembra tagliato fuori. Per la lotta del podio. Leggermente più staccato rispetto a André Dovizioso. Craccio. Intanto rivediamo un attimo la classifica. Rossi davanti a Lorenzo. Poi Pedrosa. Dovizioso. Iannone. Poi Spargarò. Brander Smith. Cal Craccio davanti a Bautista. Poi Alessio Spargarò decimo. E undicesimo Hernandez. Poi via via tutti gli altri. Abramo a punti. Addirittura la carina Abramo a punti. Rossi. 34 e 4 su Orghe Lorenzo. Su Mark Marquez. Che ha girato il 7 decimi più lento in questo giro. Che si trova in ventesima posizione Marquez. Ha girato in 35 e 1. Rispetto al 34 e 4 di Valentino Rossi. Chiaro che non è proprio a posto a posto la sua onda di Marquez dopo quella scivolata. O Marquez non sta forzando più di tanto per andare a recimolare punti. Ci sono forse giri di test per vedere come è messa la sua moto. Rossi si appresta a chiudere anche questo giro. Sempre in testa. Non sono più staccati furibonde da fuori il piede. Eccolo qua sul traguardo. Valentino Rossi. Sempre bello vederlo danzare sul traguardo prima di entrare alla curva del parco. Eccolo qua. Staccata. La variante del parco. Qui ancora la lotta tra Pedrosa e Dovizioso. Con Dovizioso che non mollerà. Iannone segue l'evolversi della battaglia tra Pedrosa e Dovizioso. In attesa di qualche bel duello tra i due. Mancano 11 giri alla fine di questa gara. Che ci ha tolto di scena uno dei protagonisti principali di questa gara. Ovvero Mark Marquez. Subito. Ancora la lotta dietro tra Pedrosa e Dovizioso. Fanno bene a inquadrare questi due. Perché tanto davanti non c'è niente di particolare. Sono sempre due Yamaha davanti a tutti. Che dettano il ritmo. Con un scrollone della moto di Dovizioso. In lotta con Pedrosa. Ha preso un leggero margine. Pedrosa va leggermente largo al tramonto. Più stretto invece Dovizioso. Ingresso del curvone. Con Pedrosa davanti a Dovizioso. Bello anche lui. All'ingresso del curvone. Dovizioso si muove un po' di più. La sua Ducati. Gli dà qualche scrollone. Intanto il quadrato. Il box. Il box Ducati che segue con apprensione. Questa lotta tra Pedrosa e Dovizioso. Con Dovizioso che in staccata si fa leggermente sotto a Pedrosa. Ma la Honda poi scappa leggermente via alla Ducati. Mancano dieci giri alla fine. Eccoli qua. Iniziano adesso i dieci giri finali di questa gara. Con Valentino Rossi ancora davanti a Orgel Lorenzo. Nel reflex ci fanno vedere ancora lo scambio di posizioni tra Mark Marquez e Valentino Rossi ancora. Nelle prime battute di gara quando c'era Lorenzo è ancora davanti a tutti. Ancora il bello scambio. Ancora poi la risposta ancora di Valentino Rossi sull'allungo che porta poi alla curva del tramonto. Ancora quindi infatti rivediamo bene il sorriso ai box di Lin Jarvis e anche di Giacomo Agostini. Qua ancora rivediamo infatti l'ingresso pazzesco di Marquez su Valentino Rossi. E il differente stile dei due in curva. Ecco qua la staccata ancora con Rossi che va leggermente largo al curva che precede il tramonto. Va via, va via bello su un binario la moto di Valentino Rossi davanti ancora alla Yamaha gemella di Orgel Lorenzo. Nel reflex ci fanno vedere ancora la slow motion, ovviamente ancora dell'anteriore di Valentino Rossi. Infatti nel dettaglio viene mostrata la gomma media scelta all'anteriore scelta da Valentino Rossi. Slow motion con la scelta di Rossi ancora. Qua è inquadrato invece Orgel Lorenzo all'ingresso della variante del parco che segue da abbastanza lontano in posizione comunque tranquilla Valentino Rossi. Le due Yamaha fanno quello che vogliono in questa gara, l'hanno dimostrato nei turni di qualifica e anche nei turni di warm up di stamattina che comunque Valentino Rossi è stato molto forte in questo Gran Premio. Marquez è sempre in fondo allo schieramento e gira abbastanza piano. Quindi non sta forzando più di tanto per andare a recuperare qualche punticino in ottica del suo titolo mondiale. E' sempre Marquez, ricordiamo che è caduto ed è sempre ventesimo. Scusate, adesso è diciannovesimo, ha recuperato forse una posizione. Qua, attenzione, lungo di Calcracelo, in staccata, a momenti quasi c'entrava Alvaro Bautista, è dovuto andare lungo per evitare Bautista. La sua moto ha dato un bello scrollone. E' ancora sfida di giri veloci tra Valentino Rossi e Orge Lorenzo, che ha recuperato qualcosina su Valentino Rossi, ma proprio poco poco. I due hanno girato quasi uguali. C'è comunque ancora oltre due secondi tra Valentino Rossi e Orge Lorenzo. Sono tranquilli tutti e due, non hanno bisogno proprio di forzare il ritmo, sapendo che dietro si stanno dando battaglia per il terzo posto. Sono tutti e due tranquilli. Dietro ancora Pedrosa, che adesso ha distanziato Andrea Dovizioso per la terza posizione. Mancano otto giri, otto giri alla fine. Ci sarà mezzo secondo di ritardo di Dovizioso su Pedrosa. Va leggermente largo Dovizioso in questa staccata che poi lo emetterà alla curva del tramonto. Bello lo stile di Pedrosa, la gira spazzolata all'ingresso del tramonto. Leggermente largo, invece la copre più stretta Dovizioso. Curvone ancora, con Orge Lorenzo. Poi si vede passare Pedrosa e poi Dovizioso. L'ingresso delle ultime curve di questo fantastico circuito. Queste poi un tempo erano le curve iniziali del tracciato. Una volta che nel 2007 è stato invertito il senso di marcia, queste sono diventate le curve finali del tracciato di misano adriatico dedicato dal 2012 allo sfortunato Marco Simoncelli. Dovizioso l'ultraguardo. Mancano sette giri alla fine. Dovizioso leggermente si riavvicina a Pedrosa. Marquez comunque è ancora ventesimo, è sempre ventesimo Marquez. È sempre ventesimo il pilota spagnolo. Qua ci fanno rivedere ancora la scivolata di Marquez nel tentativo di fare, nel tentativo di una sua, come sempre, staccata poderosa. Per guadagnare più metri possibili su Valentino Rossi, ma gli è scivolato l'anteriore. Sì, è riuscito poi a ripartire, però è comunque ventesimo, ma non sta forzando più di tanto a livello di ritmo per cercare di rientrare nei punti. Eccolo qua, adesso si è avvicinato a Barberà e agli ultimi, però la sua gara è totalmente compromessa. È solo ventesimo e la sua gara è totalmente compromessa. Mancano sette giri alla fine e non credo che riuscirà ad entrare in zona punti prima della fine della gara. Intanto, eccolo qua, Valentino Rossi ancora verso le ultime curve, mancheranno sei giri dopo questo. Marquez, eccolo qua, si è attaccato a Barberà e a Petrucci. Eccolo qua. Supera adesso Barberà. Prova a resistere Barberà. Si infila Marquez, diciannovesimo adesso. Poi salterà via facile Petrucci. Tanto Valentino Rossi è in totale solitudine davanti a Orchia Lorenza, che forse qualcosina ha guadagnato. Però sono proprio le ultime battute di gara, mancano gli ultimi sei giri. Ci vanno a vedere nello slow motion la pulizia di guida di Valentino Rossi su un cordolo. Ecco, ha inquadrato il box dalla parte di Valentino Rossi. Eccolo qua, Valentino Rossi che affronta adesso la curva del tramonto, leggera spazzolatina di Valentino Rossi all'ingresso del tramonto. La fa stretta anche lui, va sul cordolo all'ingresso del tramonto. Curvone per Valentino Rossi, leggera impennata dalla sua Yamaha. Tanto adesso ha inquadrato anche Paul Spargarò. Eccolo qua, Paul Spargarò. Che si trova in sesta posizione dietro da Andrea Iannone. Poi c'è Bradley Smith, Alvaro Bautista e Aleix Spargarò. Perché ha superato il craccio per effetto dell'errore dell'inglese che ha fatto qualche giro fa. Ancora inquadrato Paul Spargarò all'ingresso delle ultime curve. È in solitaria anche lui. Non ha nessuno davanti e non ha nessuno dietro. È tranquillo anche lui nella sua sesta posizione. Il fratello di Aleix. Tanto è inquadrato ancora Andrea Iannone. Quinta posizione tranquilla anche per lui. Bel risultato anche per Andrea. È tranquillissimo Iannone. Tanto 34,5 per Pedrosa e 34,6. 34,5 anche per Lorenzo e per Rossi 34,6. Qua non è finita ancora per il podio. Dovizioso non mollerà. Mancano 5 giri alla fine della gara. Dovizioso è ancora attaccato a Pedrosa. Non ha perso le speranze di salire sul podio. Anche se Pedrosa ha ancora un leggero margine di vantaggio su Andrea Dovizioso. Dovizioso gli ha recuperato proprio 21 millesimi. Guardate, è bella staccata. Tutte e due col piede fuori per sia Dani Pedrosa che Andrea Dovizioso. È andato leggermente lungo Pedrosa. Ingresso del tramonto. Eccolo qua. Bello vedere anche Dani Pedrosa. Bello pulito. All'ingresso del tramonto. La fa più stretta l'uscita Andrea Dovizioso per buttarsi con più velocità sul curvone. Eccolo qua. Dalla telecamera posteriore Pedrosa che inquadra Andrea Dovizioso. Le ultime staccate di questo giro. Ne mancheranno poi quattro all'ingresso sul traguardo. Quart'ultimo giro di gara che sta per iniziare adesso con Pedrosa ancora davanti a Dovizioso. Il terzo posto per il momento sembra saldo nelle mani del pilota spagnolo che così recupera altri punti sul suo compagno di box. Ma tanti punti ne recupera invece Valentin Rossi che con questa potenziale vittoria andrà a essarsi in seconda posizione forse nel mondiale. Dopo avendo recuperato... No, rimarrà terzo perché recupera solo nove punti su Pedrosa. Dei dieci che aveva di distacco ne recupera solo nove. Rimane comunque Pedrosa davanti a Rossi. Però ne recupera un bel po' su Mark Marquez che è relegato in diciottesima posizione. Adesso avrà da superare Michael Laverty e Leon Cameron. Leon Cameron e poi De Angel se vuole andare a meno ad acciuffare un misero punticino Mark Marquez. Quart'ultimo giro di gara, eccolo qua. Siamo sul curvone con Valentin Rossi, bello tranquillo davanti a Orghe Lorenzo tranquillo anche lui in seconda posizione. Le due Yamaha hanno fatto il vuoto, anzi è Rossi che ha fatto il vuoto su Orghe Lorenzo approfittando della creduta di Mark Marquez. Il margine di distacco tra Rossi e Lorenzo è di due secondi a 6 più o meno. All'ingresso di quello che sarà il terzo ultimo giro di gara. Slow motion di Orghe Lorenzo a curva a 8. Bellissimo anche lui, bisogna vedere anche Orghe Lorenzo nelle curve che precedono la curva del tramonto. Eccolo qua, Orghe Lorenzo. Uno slow motion proprio del suo stile di guida, dello stile di guida del Maiorchino. Inquadrato ancora il box, il muretto box della Yamaha con facce felici di Lynn Jarvis e di Giacomo Agostini. Terzo ultimo giro di gara, Rossi è sempre davanti a Orghe Lorenzo. Dietro poi c'è Pedrosa con Dovizioso che è sempre la calcagna di Pedrosa. Lorenzo ancora ha guadagnato qualcosina, ma proprio 72 millesimi su Valentino Rossi. Però mancano ancora tre giri. Nel tre giri non credo che Orghe Lorenzo riuscirà a coprire quei due secondi, quei oltre due secondi che ha di svantaggio dal suo compagno di squadra. Comunque le due Yamaha sono tranquille. Prima e seconda. Cosa desiderare di più? Cosa desiderare di più? Lynn Jarvis. Primo, secondo. Con le onda fuori dalla battaglia per la vittoria. Mark Marquez si è levato quasi subito dalla vittoria, scivolando nelle prime curve. Penultimo giro di gara. Intanto 61 gradi di inclinazione per Dani Pedrosa. Con Dovizioso ancora che lo segue. Mancano ancora due giri per le speranze di Andrè Dovizioso per salire sul podio. Intanto facce tese nel retro box di Valentino Rossi con Uccio e Matteo Flamini, il suo telemetrista, che se la ridono, però sanno che è una vittoria che sta per arrivare, che rimanca da Assen dell'anno scorso. Ancora slow motion di Pedrosa con Dovizioso. Rossi sta per entrare alla curva del tramonto. seguito da Orghe Lorenzo. Sta per iniziare l'ultimo giro di gara. Bella l'entrata di Rossi, che se la fa bella interna sul cordo del tramonto e l'uscita. Arriva sul curvone. Via le marce per affrontare le ultime curve. Tanto ha davanti a sé un paio di doppiati, ti lascia nella strada senza problemi, prima di affrontare l'ultimo giro di gara. Eccolo qua, Valentino Rossi. Poi seguito da Orghe Lorenzo. Siamo al penultimo. Sta per iniziare proprio l'ultimo giro di gara. Rossi con due secondi e mezzo. I doppiati si fanno strada, sono appunto Petrucci e Hector Barberà. Inizia l'ultimo giro di gara per Valentino Rossi. Una vittoria che gli manca da Assen dell'anno scorso. Eccolo qua. L'ingresso della variante del parco. Primo tratto del tracciato di Misano. Serie di curve. Serie di curve a destra. Poi ancora questa a sinistra, una di mettersi su allungo che poi porterà la curva a 9. Allungo, la staccata per l'ingresso della curva a 9. Piedino dentro, non sono staccate i furibonde. Guardate le facce di Uccio e di Matteo Flamini. Ingresso della curva del tramonto. Composto. Va proprio tranquillo. Uscita sul cordolo. Va sul curvone. Affronta il curvone. Leggera impennata. Tutto il popolo di Misano in festa. Curvone. Sono le ultime curve per Valentino Rossi. Le ultime staccate. Questa. Poi ci sono le ultime due curve. Questa è la curva del carro. Sta per affrontare la curva del carro. Rossi si volta. Vede che non c'è nessuno. Penultima curva. Poi sarà la curva a Misano. Mario Meregali che guarda il monitor. Ecco qua l'ultima curva. Curva a Misano. Valentino Rossi sul traguardo. Impennata. Vince Valentino Rossi. Davanti a Orghe Lorenzo. Grandissimo. La vittoria di Valentino Rossi. Poi c'è Dani Pedrosa che tiene bene dietro un arrabbiato. André Dovizioso. Sperava di riuscire a salire sul podio. Poi arriva anche André Iannone. Comunque un bel risultato per la Ducati. Quarta e quinta. Poi arriva Paul Espargarò. Sesto. Bravissimo anche Paul Espargarò. Brad Smith settimo. E Paul ancora davanti a Bradley Smith. Poi abbiamo Bautista. Arriverà anche Bautista. Attenzione. Intanto Cratchel è una caduta proprio all'ultimo giro. Forse Alex De Angelis. No. Addirittura Aleix Spargarò. Aleix Spargarò è caduto all'ultimo giro. È arrivato adesso anche Cratchel. Poi Jonny Hernandez. E via via poi tutti gli altri. Intanto grandissima la vittoria di Valentino Rossi. È stato davanti per tutta la gara. Tranne proprio i primi due o tre giri in cui era davanti Jorge Lorenzo. C'è stata questa battaglia con Mark Marquez che arriva adesso. Arriva adesso Mark Marquez. È solo diciassettesimo. Il leader del mondiale. Che si è tolto di mezzo poi da solo. No attenzione. Forse è un'altra grande festa per Valentino Rossi. Festeggiato da tutto il popolo di Misano. Adesso riparte. Per tornare verso i box e poi festeggiare con gli uomini del team. Rimaniamo un attimo collegati. Infatti ecco i quali. I festeggiamenti. Già un felicissimo Lin Jarvis. Con Valentino Rossi che è felicissimo per questa sua vittoria. I complimenti di Mark Marquez comunque. Valentino Rossi non sta più nella pelle. È talmente felice per questa vittoria che aspettava da tanto tempo. Addirittura da Assen dell'anno scorso. Qua festeggiato con gli uomini del suo fan club. Tanto viene inquadrato Orge Lorenzo che sta tornando verso i box. Felice anche lui per questo secondo posto. E con le immagini di Orge Lorenzo che rientra in box e di un comunque soddisfatto Dani Pedrosa. Vi salutiamo alla prossima.